L'operetta ha fatto la cura a Boronò, a ringiovanirla ha provveduto il cinema. Si gira Rita di Gaetano Donizzetti, un compositore che non ha nulla in comune con Celentano e con i maestri del rock'n'roll. Cantano e saltano dalle finestre il basso Davia, il tenore Pontigia e il soprano Cecilia Fusco. Il tenore e il basso ad onta delle apparenze non litigano per la ragazza e sorta fra loro un'accesa discussione su chi dei due deve pagare il conto dell'oste.